Come fare un buy the dip su bitcoin nel migliore dei modi? Ciao investitore e bentornato su questo canale. Questo sarà un video a mio avviso molto importante, molto interessante, quindi lascia subito un bel like e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Oggi parleremo per l'appunto di come acquistare bitcoin a sconto dopo un forte crollo. Ovviamente per fare un buy the dip dobbiamo avere comunque sia una visione rialzista prima o poi del sottostante, quindi in questo caso del bitcoin. Quindi dobbiamo vedere a rialzo bitcoin almeno nel medio-lungo periodo. Oggi ti dirò la mia metodologia preferita per fare il buy the dip. Sicuramente ci sono più strategie. Chi ha un'ottica più improntata al trading probabilmente aspetterà un segnale di inversione. Io ho un'ottica più improntata all'investimento, quindi non aspetto un segnale di inversione e adesso ti faccio vedere come opero. Quindi rimani fino alla fine di questo video perché ripeto è molto molto interessante. Allora, come faccio questo benedetto buy the dip? Sicuramente intanto aspetto un crollo del meno 70% dai massimi. Quindi ci deve essere un drawdown almeno del 70% dai massimi per far sì che almeno io intenda un dip serio. Cioè questo dip, questo crollo lo intendo serio. Quindi vado a fare poi magari un buy the dip. Quindi devo aspettare, questa è la mia regola, almeno un meno 70% di drawdown. Dopo, cosa però ovvia per questo drawdown, devo vedere i prezzi del bitcoin sotto la media mobile a 200 periodi. Ripeto, è ovvio ragazzi, non è che adesso mi commentate grazie al cavolo. Lo so, lo so che è ovvio. Però comunque sia cerco, perché vedete che può succedere, può succedere che ad oggi siamo sopra questa media. A me piace acquistarlo sotto la media mobile 200 bitcoin. E il dip per me è inteso così. Quindi drawdown del 70%, prezzi sotto la media mobile semplice a 200 periodi. E quello che piace a me come segnale magari anche di ingresso, è vedere l'RSI in ipervenduto. Quindi o a livello 30 o meglio ancora a livello 20. Cosa faccio? Acquisto così subito? Sì, potrei anche fare così se ho questo segnale di ingresso, però c'è un metodo di cui ti voglio parlare in questo video per ottimizzare ancora un pochino di più la situazione. Te la faccio un po' semplice, semplifico proprio ai massimi. E' come se dopo un crollo del genere, e dopo che vediamo i prezzi magari sotto media mobile 200, RSI così in ipervenduto, così in basso, io vado a mettere un ordine limite ad un prezzo ancora più basso rispetto a quello di mercato, e nel frattempo sono remunerato per aver messo questo ordine limite al prezzo più basso del mercato. Sui exchange questo non si può fare, cioè se io vado a mettere un ordine limite su Binance o su Coinbase, su The Rock Trading e sugli altri exchange centralizzati, io ovviamente non vengo remunerato per lasciare lì magari i Tether o le mie stablecoin nell'order book e nell'exchange. Cioè se metto un ordine limite non vengo retribuito. Quindi come si fa ad essere retribuiti per inserire un ordine di acquisto su Bitcoin? Si utilizzano le opzioni, è vero è un pochino complesso però chiunque può imparare ad effettuare questa strategia. E adesso ci arriviamo. Per utilizzare le opzioni ci servono anche qua degli exchange, ce ne sono due importanti sul mondo cripto, o c'è Deribit però lì non c'è la possibilità di depositare stablecoin, quindi ci incasiniamo un pochino la vita, altrimenti c'è anche Bybit che permette di operare con le opzioni e permette di depositare stablecoin, come ad esempio USDC. Va bene? Ora, adesso che abbiamo magari questo exchange che ci permette di operare in opzioni, cosa dobbiamo fare per inserire quell'ordine limite ed essere retribuiti? E essere retribuiti parecchio, perché adesso vi farò vedere anche le percentuali per farvi capire, ma vi dico, siamo retribuiti parecchio, dobbiamo vendere delle opzioni. E più in particolare, se noi vogliamo acquistare bitcoin, dobbiamo vendere una put, che è una tipologia di opzione. Quindi, guardate qua, siamo su Bybit, sulla catena di opzioni, quindi sull'option chain di bitcoin. Mi vado a selezionare magari una scadenza. Secondo me, a mio avviso, è bene operare con una scadenza minimo di 20 giorni, come in questo caso. Quindi, ad esempio, 3 marzo 2023, qui a sinistra trovate tutte le call, che è un'altra tipologia di opzione. In questo caso non ci serve, quindi lasciamo perdere questa colonna qua. A destra troviamo le put, che è quello invece che ci serve. Però attenzione, perché le put possono essere sia acquistate che vendute. Per fare questo giochetto di fare il Bybit Deep nel migliore dei modi, noi dobbiamo vendere la put, non la dobbiamo acquistare. Quindi, andremo a vendere la put. Adesso ti faccio vedere come si può fare. Qui troviamo, in questa colonna, lo strike price. Cioè, è il prezzo a cui, te la semplifico al massimo, noi andiamo ad inserire l'ordine limite di acquisto, in questo caso, di bitcoin. Il prezzo di bitcoin, in questo momento, è 22.700. Facciamo finta che, per me, è già un buon prezzo per fare un Bybit Deep. Facciamo finta qua. E io ho comunque una visione rialzista sul mercato. Potrei dire, a me comunque va bene di inserire un ordine limite di acquisto di bitcoin a 22.000. Quindi mi fermerò in questa linea qua. Ok? Mi sposto a destra sulle put. Qui c'è il bid e qua c'è l'ask. Io, se voglio vendere, se voglio vendere a mercato, mi rifarò sui compratori. Se voglio vendere ad un prezzo limite, come ti farò vedere, non mi rifarò direttamente su questi acquirenti, su queste offerte di acquisto. Inserisco la mia offerta di vendita. Ok? Quindi andrò a finire sul book order, in questo caso, delle vendite. Qui troviamo, vedete, un'altra colonna, almeno un'altra, che è Delta. Delta è una greca sulle opzioni, che in realtà ci indica più cose. Non voglio complicare la vita a nessuno. Vedete che c'è un Delta sulle put di meno 0,36. Cosa ci identifica il Delta? Ci identifica, ripeto, più cose, però. Cosa ci identifica in questo caso? Ci identifica, in maniera semplice, qual è la nostra probabilità di successo. Cioè, qual è la nostra probabilità di guadagnare, ok? Da questa operazione. E poi mettiamo i puntini sulle I. In questo caso, noi dovremmo fare, per capire la percentuale di profitto da questa operazione, dovremmo fare 100 meno 0,36, scusate, 1 meno 0,36, oppure 100 meno 36, è uguale. E dopo questo ve lo spiego meglio. Io, se voglio, quindi, inserire questo ordine limite ed essere remunerato, cosa vado a fare? Andrò a cliccare anche qua, volendo. Sono sulla casella Cell. Mi assicuro, ovviamente, che la scadenza è corretta. Quindi 3 marzo. Mancano praticamente 22 giorni a questa scadenza. Sono opzioni europee, quindi vengono esercitate solo a scadenza, non prima. Non sono opzioni americane. È su Bitcoin. Vedete che c'è P di put e c'è lo strike 22.000. Perfetto, è quello che vogliamo noi. Qui c'è il premio. Quindi è quello che andiamo ad incassare se vendiamo una put. Però una put smuove un Bitcoin. Io magari non voglio acquistare un Bitcoin. Me ne voglio acquistare un po' meno. Magari sono disposto ad investire 2.200 euro. Ok? Cosa vado a fare? Andrò a vendere 0.1 Bitcoin. Quindi una frazione di Bitcoin. E poi vado a dare... Ok, conferma l'operazione. Se qualcuno accetta la mia offerta, dato che è a limite, io praticamente vendo una put di 0.1 su Bitcoin. ed incasso un premio, non 660, incasserò, dato che ne vendo una frazione, incasserò il 10% di questo premio, quindi 66 euro. Ok? Quindi in questo caso è come se ho messo un ordine limite di acquisto di 2.200 euro su Bitcoin ad un prezzo di 22.000 e nel frattempo è incassato 66 euro. Uno può dire ma è poco questi 66 euro. Però vediamo cosa succede. Ok? Allora, il prezzo attuale del Bitcoin in questo momento era 22.700 dollari. Lo strike che abbiamo scelto per comprare Bitcoin, quell'order limit, tra virgolette, è 22.000. Lo sto semplificando molto, è già così un po' un casino. Il premio, abbiamo visto che io, se vendevo proprio un'opzione totale, andavo ad incassare 660 dollari. Il delta, abbiamo visto che era meno 0.36, quindi ho una percentuale di win rate del 64%. Vuol dire che 64 volte su 100, così, in maniera statica, cioè fotografando così la situazione, io vado ad incassare, se vendo una put totale, vado ad incassare 660 euro, senza acquistarmi il Bitcoin. anche se le opzioni su Bitcoin e le criptovalute sono non con la consegna del sottostante, ma ti viene consegnata il guadagno oppure la perdita. Ok? Su Bybit, ad esempio, funziona così. Facciamo finta che ne vendo, come dicevamo, 0.1 di put, io vado ad incassare il 10% di questo premio. Quindi vado ad incassare 66 dollari, subito. Qual è il mio capitale a rischio su questa operazione? Sarà praticamente la quantità che mi sono obbligato ad acquistare, se le cose si mettono male, tra virgolette, su Bitcoin, per lo strike price. Quindi 0,1 per 22.000 fa 2.200 dollari. In un anno, guardate, ci sono ovviamente 365 giorni, la scadenza dei two expiration dell'opzione era 22 giorni. Quanto guadagno annualizzato, a fronte del capitale che metto a rischio, è il 49%, quindi è comunque un guadagno molto elevato, una percentuale di guadagno molto elevata, un rendimento, un potenziale rendimento molto elevato. Mensilmente è il 4% e il ritorno dell'opzione, a fronte del mio capitale inserito, messo a rischio, è del 3%. Quindi in sostanza io sono retribuito per aver, come dicevo prima, per aver inserito un ordine a limite su Bitcoin. Ma vediamo quello che può succedere, cioè vediamo tutti gli scenari. Io intanto, in realtà, non è che acquisto Bitcoin a 22.000 dollari. Lo vado ad acquistare, cioè sarà, nelle più brutte, ad un prezzo di carico di 21.340 dollari. Perché? Perché ho incassato anche il premio, quindi si abbassa il mio PMC, in portafoglio, quindi il mio prezzo medio di carico. E cosa può succedere all'opzione? L'opzione potrebbe scadere senza valore, quindi scade magari OTM, a scadenza, e quindi io non devo far fronte all'obbligo di acquistare il Bitcoin e di fare quindi quel buy the dip che dicevamo inizialmente. Se è così, a me va bene, perché intanto ho incassato il premio. L'importante è che Bitcoin non salga troppo. Io ho incassato il premio e a me va bene. E quindi continuo a rivendere put. Appena scade quella opzione, continuo a rifare questo giochetto, a rivendere put. Se alla scadenza invece il Bitcoin è sopra al mio break-even point, quindi è sopra a 21.340 dollari, io ho un guadagno compreso tra lo 0 e in questo caso il 66 dollari. Ok? Non mi vado anche in questo caso ad acquistare Bitcoin, continuo a vendere put. a ruota, così. Il profitto, facciamo un esempio, quale sarà e qual è la formula per calcolare il profitto, è il prezzo di mercato meno lo strike scelto dall'opzione più il premio incassato per la dimensione che smuovo. Quindi 0,1 in questo caso e sarebbe 16 se il prezzo del Bitcoin a scadenza è 21.500. Ok? Quindi comunque va bene anche in questo caso. Se alla scadenza invece il Bitcoin è sotto al break-even point, 21.340 dollari, allora tecnicamente realizziamo una perdita, però non è proprio così. Cioè vediamo cosa succede. Andiamo a vedere cosa succede. Allora, la formula intanto per calcolare qual è questa perdita, che non è proprio una perdita, qual è? È strike meno il prezzo di mercato in quel momento del Bitcoin meno il premio incassato per la dimensione che vada a smuovere. Oppure posso utilizzare una formula così mi dà subito un valore negativo che mi fa vedere qual è la perdita effettiva. Il prezzo di mercato meno strike più il premio. Ok? In questo caso facciamo finta che il Bitcoin a scadenza, cioè dopo quei 22 giorni, va a 15.000 dollari. Cosa succede? Succede che io realizzo, se metto in piedi questa formula, lo vedo subito, realizzo una perdita di 634 dollari sulla mia operazione. Però se l'opzione scari in questo modo, io mi vada subito ad acquistare Bitcoin. Quindi vado a fare quel buy the dip che volevo fare prima e l'ho fatto in maniera efficace perché magari nel frattempo ho guadagnato dei premi. Ok? Quindi in realtà non è che ho fatto proprio questa perdita perché è come se avesse acquistato Bitcoin al mio break-even point, cioè qua, invece che a 22.700. Poi, sì, è vero, Bitcoin è scesa a 15.000, abbiamo fatto questo esempio, però è meglio che è andata così, cioè ha acquistato un buy the dip in maniera più efficace, pure magari avendo questa perdita temporanea per il momento, è meglio averlo fatto così rispetto ad essere entrato in mercato subito a 22.700 perché in quel caso la perdita sarebbe stata ancora maggiore, chiaramente. Quindi questo è un metodo molto molto efficace per fare buy the dip e per ottenere anche rendite importanti come vedi, ok? Per ottenere rendite importanti. Quali sono i rischi? Perché ci sono sempre i rischi ovviamente quando andiamo a provare a guadagnare qualcosa, c'è l'azzeramento del sottostante, quindi questa strategia chiaramente non la devi fare se Bitcoin, se pensi che Bitcoin si azzera, ma tanto anche l'acquisto normale a mercato di Bitcoin, se Bitcoin si azzera, si azzera, cioè nel senso uguale. qui è meglio rispetto a un acquisto a mercato, o meglio rispetto a un acquisto a limite perché qua almeno incassi i premi, quindi ti abbassa comunque il PMC, qualcosa in tasca te lo metti. Qual è un altro problema? È una salita verticale del sottostante, cioè vendendo put potrebbe pure succedere che non riesci ad acquistare Bitcoin perché non ti scende sotto lo strike price, sotto magari il tuo break-even, quindi non compri Bitcoin e ti perdi la salita verticale, questo è un problema di questa metodologia, quindi dovrai anche magari definire un prezzo al quale lasci perdere questo metodo e entri a mercato e poi ovviamente un'altra pecca di questa strategia qual è? È il rischio degli exchange centralizzati, cioè io devo comunque lasciare soldi, in questo caso ad esempio su Bybit o magari su altri exchange, se salta perdo i fondi là, quindi perdo il capitale a rischio che avevamo definito prima. In un acquisto normale a meno, già oddio, se fai un ordine a limite magari su Binance comunque devi tenere là le stable coin o comunque il capitale comunque è a rischio, se fai un acquisto a mercato e poi togli subito e lo metti nel tuo wallet allora ovviamente c'è questo rischio è molto ridotto, però se vai a effettuare questa strategia o comunque se lasci ordini limite su Bitcoin anche sugli exchange tradizionali questo ovviamente è un rischio presente, quindi questi sono i tre rischi di questa strategia, di questo metodo e questo è il metodo secondo me migliore per ottimizzare il Bybit fammi sapere cosa ne pensi di questo video quindi lasciami un bel commento lascia un bel like iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao